final four di coppa italia 2017 il pronostico di tore è un pronostico difficile c'è la sorpresa piacenza chissà che possa essere ancora una sorpresa dopo l'evento di qualche anno fa che ha vinto la stessa coppa italia però da una parte c'è anche chi suol dire c'è l'ube di là e poi c'è un modena trento quindi un altro campionato chissà chi vincerà quest'anno non c'è volerland ma sei ancora chiamato a così a fare a far ridere a creare l'entusiasmo intorno a questa bellissima manifestazione sì 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 diciamo che questa è la mia specialità ormai animare il pubblico la risposta del pubblico la mia uscita sarà sempre la stessa sono felice saluto anche tutti coloro che mi seguono sia sui vari canali social che sono quelli che seguono più chi mai tutti quanti gli spettatori via cos'è per te la pallavolo la pallavolo non è solo uno sport è uno stile di vita anche per alcuni perché non c'è agonismo durante la partita però dopo si passa la rete non c'è sempre questa differenza non c'è questa rete che divide perché la rete divide ma in altri casi anche unisce o sbaglio un saluto finale ciao a tutti i ragazzi in bocca al lupo è sempre leggete sempre la gazzetta ragazzi